Ciao ragazzi e bentornati, oggi voglio parlarvi della Dragonfly di Ink Machine, ma prima andiamo a vederla da vicino, e ecco la Dragonfly da vicino, nera, lucida, marchio Ink Machine Dragonfly, macchinetta che dà la possibilità di essere attaccata con clip cord classico o con RCA, non cambia niente, un attacco o l'altro, questo è molto comodo perché se si hanno bobine e si vuole mischiare, lavorare un po' con le bobine, un po' con le rotative, si ha la possibilità di farlo, poi il motore della Maxon che è la leader mondiale dei motori, quindi solo il motore costerà una sessantina di euro, quindi non male, leggera perché pesa soltanto 80 grammi, motore da 8000 giri al minuto, quindi all'incirca 130 al secondo, Dragonfly riesce a lavorare bene dagli 8 volt fino ai 10, 10,5, non ho mai provato a usarla più in alto di così, solitamente per quanto riguarda me ci sfumo tranquillamente e ci coloro intorno agli 8,5, traccio anche lì dagli 8,5 fino ai 9 per aghi piccolini fino ad arrivare a 10, 10,5 quando bisogna spingere degli aghi magari un po' più grandi. Rotella per fissare il tubo, un'altra per stabilizzare l'ago e un'altra per la regolazione della battuta, da morbida a dura, per le linee e per le sfumature. Macchinetta con un albero motore, molto comodo per la stabilità dell'ago, in modo che se le vibrazioni del motore dovessero essere eccessive, scarica sull'albero e l'ago resta comunque preciso. Vediamola un attimo con un sistema cartucce e poi con un sistema di aghi classici. La macchinetta può ospitare tranquillamente o un sistema a cartucce, come in questo caso. Vi faccio vedere come si monta. Sistema a cartucce, intercambiabili. Oppure un sistema normale. Sempre meglio piegare appena appena l'ago qui in fondo, in modo che quando poi si stringe il fermaago, l'ago non batta sul tubo e non lo segni. E questo andiamo, vedete che piegando l'ago siamo andati a discostarlo dal centro. Ora avvitando questo andiamo a riportarlo verso il centro. Macchinetta silenziosissima, silenziosissima. La regolazione, cosa serve? Se andiamo in battuta e da tutto chiuso andiamo a girare un paio di giri indietro, lei parte e sia una battuta molto dura. Io la uso così anche per le sfumature. C'è chi gli piace più morbida, allora si andrà a svitare e la battuta sarà molto più morbida. Molto più morbida. Ristacchiamo l'ago. Dimenticavo di dirvi che se la macchinetta dovesse fare un po' più di rumore del solito, il 90% è causato da questa vitina qua. Perché lavorando potrebbe essersi svitato appena appena, causando così magari un po' di gioco all'interno dell'albero. Quindi basterà stringerla appena appena, magari si accende la macchinetta e si fa qualche giro in più e in meno finché non si trova il settaggio giusto. Niente da dire. E ora andiamo alla prova su pelle e alle considerazioni finali. Grazie. Grazie. Allora, cosa dire? La Ink Machine. Ink Machine produttrice della Dragonfly. Dragonfly è un nome ormai in questo campo, sono anni. Che mi ricordo io, forse questa macchinetta potrebbe avere benissimo otto anni. Otto anni e in questo mondo non ci sono stati tantissimi cambiamenti proprio da dire ho ribaltato il mondo. Perché la Dragonfly è semplicissima, una macchinetta con un motore buono perché è il motore della Maxon, come vi ho detto anche prima. Non ha nulla a che vedere con le repliche fatte in Cina. Le cinesate della Dragonfly si possono usare come fermaporta, si possono usare da lanciare dietro ai figli, si possono usare come fermacarta, ma non per tatuare. Ho provato parecchie copie della Dragonfly, ma nulla che si avvicini. Forse, ma con un punteggio, se Dragonfly è 10, le cinesate sono 2. Per pelle impossibile. Voglio comprarla a 10 dollari, 20 dollari per fare delle prove su pelle sintetica? Ci può anche stare su pelle sintetica, non usare assolutamente su pelle vera. Tornando alla Dragonfly, è una buona macchinetta leggera, a me piace molto, funziona. Io la uso da 4 anni, quindi 4 anni ne prese all'epoca 4 e tutti i giorni le sue 6, 7, 8 ore e ancora oggi funziona come se fosse nuova. Ogni tanto ho qualche goccina d'olio, una pulizia, ma Dragonfly dopo 4 anni funziona ancora come il primo giorno. Non si è dissettata, non vibra, gli aghi ancora precisissimi. Dragonfly non ho niente da dire. Costicchia un po'? Sì, probabilmente costicchia un po', è vero. Negli shop online sarà intorno alle 400 euro più IVA, quindi costa. Magari ho detto una cazzata, non vorrei mai, però più o meno mi sembra che il prezzo sia quello. Costicchia un po', ma è davvero eterna. Io sono 4 anni che ci lavoro, 6-8 ore al giorno e non ha mai avuto un problema. Questa macchinetta è sempre stata una bomba. E ci si può fare quello che si vuole. Vuoi fare delle linee? Fai delle linee. Vuoi sfumare? Ci sfumi. Vuoi colorare? Ci colori. Ovviamente, rispetto alle bobine, è lenta, come tutte le rotative. Tutte le rotative, rispetto alle bobine, sono lente. Però questo non vuol dire che non puoi fare una linea sottile con un 3. Questo non vuol dire che non puoi fare una linea spessa con un 14 RL. la puoi fare. È lenta. È lenta, ma lei buca. È precisa, segna, non lascia segna, non fa keloidi. Ci vuole il suo tempo. Linee, piccole, grandi, sfumature, riempimenti, non si scaldano avanti per delle ore. Una buona macchinetta. Quindi, non so cos'altro dirvi. Niente, non mi resta che ringraziarvi. Mettete like se vi è piaciuto il video. Non mettete il like se vi è piaciuto. Oppure mettetelo. Fate come volete. Se volete mettervelo. Se mettervelo. Mettervelo.